Quindi ragazzi mi raccomando commentate con le prossime penitenze da fare nei prossimi video e ovviamente condividete il video ragazzi perché ci saranno delle belle sorprese Anche per noi ragazzi inizia il mondiale Quest'anno purtroppo non c'è la nostra Italia mondiale abbiamo cercato comunque di coinvolgervi di coinvolgere noi insomma per poter seguire al meglio questo mondiale Ognuno di noi come state vedendo poi dalle divise e dalle bandiere che mi hanno detto di noi Ha scelto una squadra che ti farà in questo mondiale La sala mondiale nel quale se le nostre squadre andranno bene saremo contenti noi e scontenti gli altri Se la nostra squadra andrà male saremo scontenti noi e contenti gli altri Perché sarà pieno di penitenze Attenzione subito mamma mia nazione per la Francia Comunque dicevo ci saranno delle penitenze Gli sta tenendo una ruota ragazzi Con le penitenze Con le penitenze chiaramente ogni volta che ci sarà qualcosa inerente Ai cartellini, ai gol fatti o subiti Al risultato della partita Scommesse varie all'interno della partita Ci saranno sempre delle penitenze Quindi mi raccomando ragazzi Per cui una cosa fateci sapere qui sotto con un commento Delle nuove penitenze, delle nuove challenge da fare Delle prossime re-action E leggeremo solo quelle che al termine avranno l'hashtag TRIACTION Mi raccomando ragazzi Commentate tutti quanti con la penitenza che dobbiamo fare nei prossimi video Vai adesso ragazzi vediamoci questa partita In bocca al po' bello e alla mia Francia Yes Ricordo anche ragazzi che quando la nostra squadra uscirà dal mondiale Ci sarà una maxi penitenza E quando dico maxi ragazzi sarà un maxi in tutti i sensi Quindi mi raccomando Ma se vince il mondiale Ma se vince il mondiale Ci sarà una cosa positiva sempre maxi Quindi comunque non la ricompensa male Bravo Lo sapete nei prossimi video mi raccomando Seguiteci Re-action Lancio la scommessa subito Se entro il 14esimo minuto e 59 secondi la Francia segna Ci sarà un giro di ruota e una penitenza che dovete fare tutti voi Esatto E se non segna Se non segna la faccio bene Ah vai Arbitro Arbitro Giallo Giallo Cattellino Giallo E andiamo così E questo vuol dire un giro di ruota Per il Belgio e per l'Argentina Giro Mar Vai Vai Intanto c'è anche la punizione qui per la Francia Sei voluto fuori? Farina Andrea Farina bella Farina vieni togli tubo Vai togli tubo gira la ruota vediamo Gira la ruota Gira la ruota Farina tutti e due Allora ci metto la farina dopo Mettila a posto Prima penitenza ovviamente che potremmo capire Allora guarda è senza una cosa brutta eh Sì Sgamer E vabbè vabbè Fammi sapere cosa ne pensi Di questa farina ecco È fresca? È più sgamer? Eh sì Come è la farina? Bella Aspetta aspetta Non togli gli occhia Mirko guarda gli occhiali Passa lì Vieni tu Vabbè dritto così Bello Non però non sei rimfrescante Bello Sono un farinaceo Non so mi togli tubo in paname Sì sì Dai Omar 10 secondi Omar 10 secondi e poi ne vado la pari Vai Omar Sono un farinaceo 8,6,6,6,6,5,4,3,2,1 Aij,m... Sì no Non è un farinaceo Che capire Ma è Omar Oun Vai Omar Oun Vedi senza per me Vediamo un po' cosa capita Ti prego Ti prego Scotch No, no, la prossima penitenza. Eh, no, mi sembra un ninja. Una mummia segna. Un saluto a ninja. Ecco, fatto. C'è un'altra salvazione. Tom. Siamo a casa. Dall'antico Egitto. Tom, ma se uno dentro 30 minuti segna la Francia. Secondo me, dentro 30 minuti segna la Francia, Tony. Ancora? Allora, questa è una sfida personalizzata. No, facciamo il ninja. Se, entro il 45esimo, la Francia segna penitenza, Tony. Penitenza per Roma? No, ma sono contro Tony. Ah, per Tony, ok. Che sono per me? Perché? Ma come? Roma ti fa la domanda. Ma tu mi hai lanciato? Ma boh. Mi devo cattare il naso. Mi ha fatto io, Omar. Ah, sì. Bello. E Tony, cacchio. Già si sai per i dettagli. Dai! Bene, Omar. Sì! Dai, Omar, per i dettagli. Ma la vinto. Togliamo questo, aspetta. 0 a 0. Comunque è una partita un po' così e così. Ah, via. Ragazzi, questa è una E. E mi entra. Questa è la mia panza. Gia, 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 gia. Gia, 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 gia. Gia, 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 soldi. Avevo, ma di vuoi uomore, ma no. E poi, guarda, è tutto bloccato. Questa è la mia panza. Ma io, Omar, guarda che qua, va, 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 va. Gira il più forte possibile che pui. Ti prego, non fare una bella. BOLE! C'è durante la partita, per l'inizio. Ok, va, allora. Altro giro. Altro giro, vai. Perché ci scusate? Ah, però non so qua durante la partita. Questo qua durante la partita. Quando non ci scuse, poi. Eh, ho presso la scommessa con lui. E poi, a fine primo tempo, non sono in vantaggio. Allora, scusa, questo è scommesso con me il C2I. Pemerintenze, però, prima mallette, poi. PICCANTE! Oro, no, 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 no. Ma non è vero, no, 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 no MA' PREPARATEreno?! Nooo l'acqua no... E sino come devi morire? Ci vuole il latte! NO NO NO! ARWA att scusami CHE SCHIO � Dai noooace Che suξ' vuolevela? Later? Latte? Latte parzialmente va bene? Pomodora? C'ho la pomodora se vuoi Come lo vuoi manchiare C'ho la pomodora Via il latte Devi vomitare veramente bad Devo vomitare Vai un zì, vai un zì Dov'anni se somma! Sei di stato due dai Diciamo E uno stemma a terra, lo pienso dove Non si può mangiare questo Invece si come, è bello Invece uno è bello Ma se bevo il latte conta? No, che cazzo è? Bevi il latte, tutte le mattine lo bevi Poco come ti senti? Ma che stai spunti? Cos'è? Ah, mi devo scendere Ah, la cura Questi qua ben disegno Ah, più parlo più è peggio E' sanzitutto, allora Andiamo dentro, prossimo ragazzi Bene raga Parlo io però, Amar credo Ci vediamo nel secondo tempo Con le bollette da attaccare a top Sei Omar sopra vive? Sì! Nego c'è la mia rotte Si Cavallo Ma tu non lo so, un frigo Guarda qua Ragazzi, cominciai il secondo tempo Omar sta ancora morendo Perché non ho trovato suore? Sta mangiando un ghiacciono per recuperare ecco La normalità E' il secondo ghiacciolo che si mangia? Secondo? E' il secondo ghiacciolo che si mangia? E' la Francia? Mi prego Francia! Questo è il terzo Omar Tanto però ti trovo la fine molletta Scusi Posso? AAAAAAAH! E come cazzo devo fare? Paggiorno! Ma il naso no Sono prima parte del naso no La stramata E' duro I capelli Sul E' la stramata E' la stramata E' la stramata E' la stramata Come fai a sultare se segna la Francia? Io ti chiedi che sulta se segna la Francia Perché tutti voi dovete pagare queste cose E' la scommessa Prima scommessa C'è la Francia La insegna In del sessantesimo minuto Dalla per evidenza Mentre se segna La facciamo noi Dai! Vai home! Dai! La facciamo noi chi però? Tutti! Hai detto tu? No ma come hai tutti? Prima ero noi Ok dai solo lui Dai Ok solo uno di noi Vai Sì Ecco! Dai ragazzi Dai ragazzi A rigore! Non è rosso No! 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 Non ha fermato Ma non ha fermato Ma non ha rigore Ma secondo me è fuori No! Vabbè se è fuori Comunque il cartellino è rosso E' Sono scattati a porta Bar! Bar! Rigore! Rigore! Sì! Lo vediamo! Si è rosso eh No sta andando in conto al difensore però Eh vai giù Ma hai ragione Non ce la faccio Bisogna il cacciolo Ma bevi un po' di latto Bevi un po' di latto Bevi lì Attento Ma dai Mi cacciolo Mi cacciolo Se sbaglio ti fa penitenza eh Giallo E rigore per la traccia Quindi facciamo la traccia Ma per intenza a tutti Esatto Se segna anche il rigore Vai Se sbaglia però Penitenza tu e noi anche E uno è Antone Dai Antone Dai 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 Sìììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì basta me guarda orecchio è l'angolo questo eh cibo per cani dai cibo per cani ragazzi adesso seconda pretenza per tutti quanti vediamo ti prego non cibo per cani di nuovo pomodoro pomodoro per tutti quanti pomodoro per tutti va bene mister ma iniziamo con il biscott fai vedere che comunque c'è il cane qui ragà e che è nuovo è appena bene esatto ah fammelo dorà lo dorò non l'ho usato proprio no senza mani non l'ho usato 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 mamma mia che merda sono bello devi soffrire è definito però vabbè buono allora ho un'odore che non si annusa anche se mi trasformi mi prego adottatemi non rimuole no non l'ho usato che non lo so non lo so non lo so di più ma di più ma bravo e e più giù sei giù per terra ma la cazzo sono morto senza stai vai mettiamo la rigore ho sbaglio sicuro ti prego l'australia faccio rigore faccio rigore penitenza per homer penitenza per homer se sbaglio faccio che non è la penitenza se segna penitenza solo per homer dai dai hugo siiii oh no oh no genuoto ragazzi farina vai posa la rota posa la rota la testa oddio bello bella vero bravo ma bravo penitenza vero allora omar ti propongo una sfida va da la peritenza da la peritenza l'avevo vista Andrea devi fare la penitenza Eh si la devo fare vero Eh si la c***o Vai a prenderlo qui Allora si vai Francia Ragazzi adesso penitenza Mannaggia la Francia Goto 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 piccante Andrea Eh facciamo c'abbiamo il paprika Vai paprika C'ho anche io con te Andrea Per solidarietà dai Allora facciamo più schiener Tutti più schiener Prego premi Allora ragazzi andiamo dentro con Il paprika piccante Esatto Posso sfruttarla subito eh Il prossimo Mangia mangio è buono Il prossimo Bene ragazzi alla vostra Com'è sta fabbrica A me piace questa fabbrica Non è esagerata Mi piace ancora sulla lingua guarda Questa fabbrica ragazzi Eccolo eccolo Inizio a sentirsi Oh tira di là Ammizio E' un beccatellino vai Un beccatellino che vuol dire Un altro bel giro di ruota Eccolo Scegliete un colore ragazzi Il colore che uscirà Io scelgo azzurro Viola Blu Blu Azzurro Viola Giallo Azzurro Blu Blu Gli ultimi 5 minuti dai Però Le molette sono sporche Quindi Fanno male boia Fanno male boia Fanno male boia I capelli I capelli I capelli Forca miseria Finisci via con la nostra partita di merda Finisce qui la partita 2-1 per la nostra Francia Per la mia Francia E adesso ragazzi avete perso E mi toccia Un'altra premittenza Eccolo Quindi Vammonosco il prossimo giro Una bella premittenza Pomodoro Va bene Ragazzi dobbiamo chiudere in bellezza con il pomodoro Palle Altra volta Se volete Se tutti seduti Se tutti seduti Per terra però Così vai quasi tutti così Tutti così Attezzaci Aiuto ragazzi Tinemoci le mani Tinemoci le mani Tutti i stetti Un bello shampoo per mister Oh ma fai adesso l'interno Quindi ragazzi Mi raccomando Commentate con le prossime penitenze da fare nei prossimi video E ovviamente condividete il video ragazzi Perché ci saranno delle belle sorprese Ci vediamo con ToriTubo Oh Bene Tori Ah Ma quanto puzza Che schifo Quindi ragazzi lasciate un bel mi piace Un bel commento Condividete il video Iscrivetevi al canale Noi ci ricchiamo E un prossimo video Dall'Ariance N'è tutto BANANANI Ascoltanti Che merda Non ci scrivono al canale dopo che ci siamo buttati addosso Tutta sta merda